Sono stati installati di recente i cestini per le dedizioni canini a Torre del Greco, un'iniziativa a favore dei proprietari dei cani e volta a tenere più pulite le strade e le aree verdi della città, a fronte delle numerose lamentere dei cittadini per i numerosi episodi di inciviltà. Il comune ha provveduto a installarne 10, 3 nella zona di Palazzo La Salle, 1 nel viale d'ingresso e 2 a parcheggio Palatucci, 2 a via Galastro di cui 1 nell'area delle giostrine, 2 via Sotto ai Camaldoli, 1 zona Villa Comune a Leceravolo e 2 al parcheggio di via Cimaglia. Ai microfoni di TV City abbiamo chiesto ai Toresi cosa ne pensano. Abbiamo visto che lei ha appena utilizzato il cestino da poco installato per la raccolta delle dedizioni canine, cosa ne pensa? Ma cosa ne pensano loro? Perché se non c'era il coso per i cani, lo buttavo nel bidone, a terra non lo buttavo comunque. Quindi lo trova di estrema utilità per i padroni dei cani? Certo, sicuramente, bravo il sindaco. Ed anche per le persone che magari non hanno i cani ma che si ritrovano magari con quello che lasciano gli altri padroni? Vabbè, ma sicuramente lo lasceranno. Non tutti quanti sono uguali. Quindi lei teme che nonostante questa iniziativa da parte del Comune molte persone non lo utilizzeranno? C'erano questi bidoncini per le dedizioni dei cani. C'erano i bidoni dell'immondizia, però non li utilizzavano lo stesso. Cioè quella neanche la busta c'hanno. Questo è il particolare. Non l'avevo neanche visto, non so dove sta. Se mi dice dove ho ubicato, lo suffisco anche io volentieri. È appena l'ingresso della villa. Eh direi finalmente perché qui c'è un problema di rifiuti, quindi sarebbe l'ideale provvedere anche in altri sensi. Lei ha mai notato che magari altri padroni lasciano purtroppo gli escrementi dei cani? Non fa nulla, anche con le autorità competenti negli intorni però non fanno nulla, quindi voglio dire c'è anche un problema a livello di amministrazione. Quindi lei la trova una soluzione molto utile? Certo. Spero che anche gli altri la utilizzeranno a dovere. Sicuramente è una cosa positiva, anche se nello solito della città di Torre del Greco è prescritto che la città debba agevolare i possessori dei cani e la civiltà degli stessi. Tuttavia non ci sono zone verdi dove i cani possono andare a passeggiare. È vero che adesso l'area è stata ripulita, l'area della villa comunale, tuttavia se vede non si possono lasciare sciolti i cani. Non c'è quindi un'area dove i cani possono tranquillamente pascolare, giocare, divertirsi. Questo è quanto. Quindi trova utile questo nuovo cestino però per la libertà dei cani e per il loro movimento? Lei auspica anche un'area riservata solo agli amici a quattro zampe? Sicuramente, perché è prevista nello statuto della città. Sicuramente il cestino è una goccia in un mare, in un oceano, perché non basta un cestino per agevolare i possessori. Poi ci sta chi è civile e chi è incivile che lascia le deiezioni lì dove si trovano. Sono sicuro che magari oltre a lei anche altre persone, padroni di cani, possano utilizzare questo cestino? Sicuramente è una cosa positiva, ma non basta questo è quanto. Hanno da poco installato un nuovo cestino per la raccolta delle deiezioni canine qui in Villa Comunale. Cosa ne pensate? Per me sarebbe una soluzione, in effetti l'igiene e la pulizia voglio dire è la prima cosa e quindi se c'è questa cosa è positiva, insomma. Vedo molta più pulizia, c'è più igiene in effetti e quindi sì, non si vedono più escrementi dei cani, no. Pulite ci vengo volentieri, infatti pure la sera ci vengo spesso e si sta bene.